Bentornata Ilaria Capua. Buonasera. Buonasera, virologa, dirige il Centro di Ricerca di Eccellenza dell'Università della Florida e in libreria con un libro che si intitola Il viaggio segreto dei virus. Ne abbiamo parlato, ne riparleremo, ma professoressa, allora l'OMS ha pubblicato le definizioni variante di interesse o variante di preoccupazione. Ci dice qual è la differenza? Allora, dunque, come sappiamo le varianti emergono e devono essere studiate, no? E diciamo che esistono diversi gradi di interesse e preoccupazione intorno alle informazioni che queste varianti ci danno. Allora, una variante di preoccupazione o concern è una variante che bisogna tenere sott'occhio. Una variante di interesse è a una fase precedente rispetto alla variante di preoccupazione. È un po' come la fidanzata e la moglie. Le varianti di interesse sono le fidanzate e poi diventano, nel caso, speriamo di no, ma varianti di preoccupazione. Quali sarebbero, non moglie e fidanzate, quali sarebbero nei nostri esempi quelli di preoccupazione? L'inglese, la sudafricana, quali? Beh, l'inglese di sicuro. E vorrei sottolineare che il fatto che questa variante si chiama inglese è perché è stata sequenziata in Inghilterra per la prima volta, non perché sia necessariamente originata lì. Più le varianti si sequenziano, più le varianti si studiano e più è possibile dire se la variante ci deve preoccupare oppure no. Ecco, fermiamoci sul sequenziare il virus. Lei, diciamo, divenne famosa nel mondo scientifico, già lo era, ma l'atto che la fece conoscere più di tutti è che 15 anni, lei fece un atto rivoluzionario, rendere pubbliche le sequenze dell'influenza aviaria. Allora, in che misura sequenziare, cioè fotografarli, o ci spieghi lei cosa vuol dire, può servire anche nel caso del Covid? Ma allora, il sequenziamento è fare l'impronta digitale del virus, no? È come un codice a barre. Quindi il momento in cui tu riesci a conoscere le caratteristiche genetiche di quel virus, riesci a comprenderlo meglio, ma riesci soprattutto a paragonarlo. Allora, se tu non hai uno spazio e dei meccanismi che ti permettono di condividere le informazioni, accade che non possono esistere le varianti, perché se non riesci a paragonare quello che succede in Inghilterra con quello che succede in Francia, con quello che succede in Italia o quello che succede in Sudafrica, non riesci ad avere una immagine globale del problema. ed è per questo che è molto importante condividere le informazioni, è molto importante sequenziare. Perché? Anche perché, lo sappiamo, l'abbiamo visto prima, i vaccini li dovremmo aggiornare, i vaccini verosimilmente, mano a mano, che queste varianti di preoccupazione prendono sempre più piede e magari si modificano al punto tale che bisogna aggiornare i vaccini, come facciamo ad aggiornare i vaccini se non abbiamo il polso di quello che succede. Quindi, quel gesto di rifiuto che io feci anni fa nel quale dissi no, le sequenze dei virus che hanno potenziale pandemico devono essere studiate da tutti i ricercatori del mondo insieme, perché non possiamo lavorare a compartimenti stagni. Ecco, quel modo di pensare, tutto quel lavoro dei ricercatori che hanno contribuito ad essere oggi dove siamo, ci permettono di avere 500.000, credo che siamo a 600.000, fra un po' avremo un milione di sequenze da guardare, da studiare e da utilizzare per proteggere la salute pubblica. Allora, professoressa, giustamente lei diceva la variante inglese non significa che sia nata in Inghilterra, viene così chiamata perché là è stata sequenziata, invece sicuramente in Inghilterra e hanno provato per primi, hanno scommesso sul fatto di dare una sola dose a tutta la popolazione e questo gli ha permesso di vaccinare più persone. Vediamo come è andato, guardi con il servizio di Andrea Scazzola. È venuto in macchina da solo? Sì. Allora attenda 15 minuti prima di rimettersi a guidare. Ecco, brucerà qualche secondo. Poi beva qualche bicchiere d'acqua. Una birra si può? Siamo all'interno di una farmacia perché qui in Inghilterra non si vaccina solo in ospedale o nei centri specializzati. Sono stati adibiti stadi, centri congressi e farmacie. Sono già 500 nel Regno Unito le farmacie autorizzate a vaccinare e siamo in grado di fare mille vaccini a settimana. Così gli inglesi sono arrivati a vaccinare 20 milioni di cittadini. Il governo ha avuto dei ritardi sul lockdown ma sulla vaccinazione sta dando una grande prova. Per la seconda dose qui si aspettano 12 settimane e una scelta strategica vaccinare tutti in fretta e già la stampa parla di un calo di contagi del 40%. Prenotarsi è semplice. Ho ricevuto la lettera dall'NHS di mattina sono entrato online questa è la farmacia più vicina a casa mia stamattina sono venuto subito 5 minuti Ammetto che al vaccino AstraZeneca mi va benissimo l'importante è proteggere me la mia famiglia e tutti gli altri e il ministro della salute è ottimista ha dichiarato che per l'estate del 2021 finalmente i britannici potranno trascorrere l'estate che desideravano la terra. Cosa ci insegna Londra professoressa? Questa è una maratona sono partiti forse con il piede sbagliato abbiamo visto tutti che l'errore è stato all'inizio di non chiudere e adesso stanno facendo una grandissima rimonta soprattutto con il sistema di distribuzione dei vaccini perché che di vaccini ce ne sarebbero stati pochi questo lo sapevamo perché è una corsa per produrre abbastanza vaccino per tutto il mondo loro si sono mossi per tempo e sono riusciti a far arrivare il vaccino nel braccio delle persone che è il posto migliore per il vaccino specialmente in questo momento allora sono tornato